Oggi parliamo della tecnica di studio più sottovalutata in assoluto. Mi riferisco al sistema Leitner. È molto poco utilizzata e molto poco spiegata come tecnica, ma è molto molto efficace per riuscire a memorizzare in modo rapido le informazioni che devi studiare. Il procedimento è abbastanza semplice e puoi applicarlo su qualunque materiale. Ma prima di parlarti di questo, voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Ti basta inserire nel link che trovi in descrizione il tuo nome e la mail in cui poi riceverai ovviamente gratuitamente tutte le informazioni e i contenuti del corso con spiegazioni pratiche, teoriche, contenuti scaricabili, piano di studio e tanto tanto altro. Provalo, è gratuito e sicuramente ti può aiutare. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi ti faccio capire perché il sistema Leitner è la tecnica di studio più sottovalutata quando si tratta di memorizzare in modo efficace le informazioni. Vediamo quindi insieme questa tecnica di studio così sottovalutata. Ti faccio capire che cos'è e soprattutto come utilizzare il sistema Leitner. Sono tre gli step sostanzialmente che dobbiamo seguire quando lo applichiamo. Prendiamo e quindi selezioniamo il concetto da studiare. Ti faccio capire il processo con un concetto solo. Ovviamente poi sarai tu stesso o tu stessa ad applicare questo sistema a tutti i vari concetti. È molto molto semplice in ogni caso, quindi non ti chiedo uno sforzo sovrumano. Quindi il primo step è questo. Selezioniamo il concetto che vogliamo studiare, apprendere e quindi ricordare a lungo termine. Il secondo step è quello di trascrivere il concetto su una flashcard. Se non sai come funziona la flashcard, adesso lo vediamo a livello pratico, ma è semplicissimo. La flashcard è un quadratino, un rettangolino di carta. Da un lato mettiamo il nome del concetto, dall'altro lato scriviamo, per esempio, se vogliamo ricordare una definizione, la definizione del concetto stesso. Leggiamo solo il primo lato, quindi quello in cui c'è scritto solo qual è il concetto, e proviamo a ricordare a memoria il contenuto dell'altro lato della flashcard, e quindi la definizione. In questo modo, dopo aver ripetuto a voce alta il contenuto senza aver girato la flashcard, possiamo poi girarla in modo tale da verificare se quello che abbiamo detto a voce era esattamente quello che c'era scritto. Quindi in sostanza, leggiamo il nome del concetto, proviamo a ripetere la definizione a voce alta, giriamo la flashcard e controlliamo se abbiamo indovinato, cioè se ricordiamo nel modo corretto. Questo è l'esempio con una definizione, vale per qualunque altro tipo di concetto, se vogliamo ricordarne un esempio, vogliamo ricordarne altri concetti associati, e in generale lo possiamo usare in modo molto 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 flessibile. Quindi il concetto che l'abbiamo selezionato, lo trascriviamo nella flashcard, e poi terzo step, valutiamo il livello di apprendimento, cioè se non riusciamo a ricordare il contenuto della flashcard, se la ricordiamo così così, o se la ricordiamo proprio bene. Questo è l'intero processo, non devi capirlo tutto subito, anche perché adesso vediamo ciascuno di questi step uno alla volta. Il primo è questo, l'abbiamo detto prima, selezioni il concetto da studiare. Per esempio, voglio studiare il concetto X, non facciamo esempi troppo concreti, così eliminiamo il rischio di confonderci, e per esempio di questo concetto voglio ritornare e ricordare la definizione. Benissimo, quindi l'esempio, la definizione del concetto X, e questo è qualcosa che vogliamo studiare, nello specifico vogliamo ricordare a lungo termine. Quindi, il primo step, facilissimo. Secondo step, trascriviamo la prima parte del concetto X su una parte della flashcard, che come vedi è questo rettangolino di carta, dall'altro lato poi andremo a scrivere la definizione effettivamente. Quindi, prendiamo questa prima facciata della flashcard e leggiamo, ricorda la definizione del concetto X, questo è quello che vogliamo fare. Poi, giriamo la flashcard e andiamo a trascrivere effettivamente qual è questa definizione. Quindi questa è una fase di preparazione della flashcard. Poi, la rigiriamo nuovamente, leggo il concetto X, senza girarla, provo a dirlo, il concetto X è definibile in quanto, eccetera, 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 eccetera. Quando sono certo o certa di aver finito la mia spiegazione a voce alta della definizione, allora vado a girare la flashcard e controllo. Ho detto tutto giusto, ho sbagliato, ricordavo così così, ricordavo solo una minima parte, non ricordavo nulla, quindi cosa stiamo facendo? Stiamo passando al terzo step. Quindi, valutiamo il nostro livello di apprendimento. Immagine che ci siano tre diverse scatole. La scatola A, in cui vado a posizionare tutte le flashcard che non ricordo abbastanza. Quindi, in questo caso, è come se non fossi riuscito a ricordare la definizione. La scatola B, in cui ricordo così così. Una parte la ricordo, delle informazioni, un'altra no, quindi è meglio ripassarla un po'. Oppure, scatola C, ricordo tutto molto bene. Ecco, il nostro obiettivo, in teoria, è portare tutte le flashcard nella scatola C, perché vuol dire che ricordo tutti i concetti da studiare, per esempio, tutte le definizioni dei concetti da studiare, le ricordo molto molto bene. Questo, ovviamente, è il nostro obiettivo finale. Perché, per esempio, facciamo un esempio pratico con quello che abbiamo fatto finora, con gli step precedenti, vado a posizionare nella scatola B, quindi ricordo così così le informazioni, le definizioni di questo concetto X di cui parlavamo prima. A questo punto, cosa devo fare? Il processo è finito? No. Perché devo portare tutto nella scatola C. In questo caso, questa flashcard è nella scatola C. Quindi, nuovamente, torno a rileggere la parte della flashcard in cui, per esempio, è riportato il concetto C, e provo a ripeterla. Dopodiché, giro la flashcard e controllo se riesco a ricordare bene. Faccio questo finché, finalmente, posso spostare la flashcard nella scatola C, quindi la scatola in cui vado a inserire tutte le flashcard che ricordo benissimo. Fine. Questo è il sistema Lightner. In questo modo, parto dal concetto da studiare. Lo metto sotto forma di questa elaborazione, grazie alla flashcard, e successivamente valuto se la ricordo. Torno più e più volte, ripetendo il contenuto della flashcard, finché riesco a spostare quest'ultima nella categoria C, nella scatola C, c'è la scatola in cui ci sono tutte le flashcard che ricordo benissimo. Questo processo, lo ripeto, per tutti i concetti che ho bisogno di ricordare a lungo termine. È molto utile utilizzare il sistema Lightner anche quando voglio ripassare le informazioni, perché mi basta riprendere una flashcard, provare a ricordarla, se, per esempio, con il passare del tempo qualcosa l'ho dimenticata, magari, invece della scatola C, questa ritorna alla scatola B, perché, appunto, qualcosa magari l'ho dimenticata. E quindi cosa faccio? Insisto nuovamente su questa flashcard finché, visto che riprendo e recupero meglio le informazioni della memoria, ecco che ritorna nella scatola C. Quindi l'obiettivo è facilissimo. Eseguire questo meccanismo è altrettanto facile, e di conseguenza questo è quello che dovresti fare per utilizzare il sistema Lightner come si deve, e sfruttare questa tecnica che è molto, molto sottovalutata, ma che in realtà dovrebbe essere all'interno dell'arsenale delle tecniche e delle strategie di apprendimento efficaci di tutti gli studenti e tutte le studentesse, soprattutto a livello universitario. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Fammi sapere se hai incontrato qualche difficoltà o hai qualche dubbio. Sono contento di poterti aiutare. Puoi scrivere nella sezione dei commenti attraverso i contatti che trovi in descrizione. Io ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Anche per questo trovi il link in descrizione. Ne approfitto per ringraziarti del tuo tempo, della tua attenzione, e ti aspetto con molto piacere nel video che uscirà domani.